1 aprile. Signore, se vuoi, tu puoi. Luca 5,12. Dio può. Le parole sopracitate sono state pronunciate da un lebroso a Gesù. Sebbene siano poche, sono ricche di significato ed esprimono la fiducia totale che egli aveva in Gesù, il figlio di Dio. Da un punto di vista umano, il lebroso non aveva speranze, la sua situazione era irrisolvibile e la sua malattia incurabile, ma Gesù, il Signore, poteva compiere un'opera miracolosa e guarirlo. Il lebroso sapeva molto bene che la sua guarigione, una volta chiesto l'intervento di Gesù, dipendeva dalla sua volontà e non dalla sua capacità. Dio può operare oltre le aspettative e le richieste umane. La scrittura afferma che per il Signore non c'è nulla di troppo difficile o impossibile. Egli può operare potentemente nella tua vita e ristabilirti dalla situazione di dolore nella quale ti trovi. Per il Signore non c'è problema irrisolvibile, situazione irrimediabilmente compromessa o malattia inguaribile. Dio può tutto. Rivolgiti a Lui con fede, chiedigli di operare in tuo favore e sottomettiti alla sua volontà.